Buon pomeriggio al mio ormai fisso e chi ti toglie più da qua? Ho una mia ex concorrente della fattoria quando la conducevo io che però mi dette la sola come si dice a Roma perché l'avevamo scelta, sarebbe potuta partire, lei era incinta, non ce l'ha detto, noi l'abbiamo scoperta, l'abbiamo tutta a casa Giustamente Giustamente Ritorniamo alla fattoria, cosa pensi di questa ragazza che si è offerta? Penso che, secondo me, questo secondo me è totalmente irrilevante Vediamo cosa è successo nella casa del grande fratello, fermate Guindalisa Bellissima anche, pubblicità, guarda un po', pubblicità